Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua tornati in questo nuovo video, il solito video di pre-partita del giorno prima domani c'è Roma-Juventus, ragazzi io sono in uno stato d'ansia incredibile è una delle partite che sento di più, una delle partite che mi viene proprio la carica da una settimana prima della partita, oggi sono qui per analizzare un attimo le parole di Fonseca e quello che è successo ieri in casa Roma, voglio analizzare più che altro il modo in cui la Roma potrebbe o dovrebbe approcciare la partita domani intanto vi ricordo di seguirmi su Instagram, link in descrizione, di seguirmi su Twitter perché lì twitto in tempo reale eccetera eccetera ho aperto un canale Telegram perché siccome YouTube non manda feed eccetera eccetera lì possiamo risponderci, botte risposte eccetera eccetera, ci sono tutti i link in descrizione ragazzi andateci così ci possiamo sentire più spesso e rimanere sempre aggiornati allora, è circolata ieri questa voce di una possibile Roma con un modulo 3421 in questo caso Setin andrebbe a prendere il posto numericamente di Perotti e si andrebbe a schierare molto probabilmente sul laterale sinistro con Smalling centrale un po' a cercare di tappare i buchi a destra e sinistra perché è il più veloce dei tre e Mancini sul laterale destro gli esterni ovviamente saranno Kolarov e Florenzi centrocampo con Diavara e Veretù con Zagnolo e Pellegrini dietro Dzeko allora io con voi voglio analizzare un attimo i pro e contro di questo modulo sia in fase difensiva che in fase offensiva statemi bene ad ascoltare perché secondo me può essere una chiave di lettura importante per quanto riguarda la partita di domani secondo me è, per quanto riguarda la fase difensiva, una scelta un po' più conservativa ma è ovviamente anche utile in fase offensiva in fase difensiva è conservativa perché? perché la Juventus ultimamente sta giocando con due punte con due sole punte solo in due casi ha giocato con il tridente pesante Ronaldo, Di Bala e Guain ma molto spesso sta giocando con Ronaldo e Di Bala ultimamente sta giocando con due punte e col trequartista che cosa succede? con la difesa a tre avendo due punte loro hai una superiorità numerica quando attaccano loro perché tu hai tre centrali e le loro due punte che attaccano centralmente sono bloccate numericamente dai nostri tre centrali quindi questa potrebbe essere già una cosa positiva perché? perché anche nel caso in cui le loro due punte dovessero allargarsi cosa che è capitato spesso perché Di Bala non rimane fermo Ronaldo non rimane fermo svariano molto sulla parte d'attacco della Juventus uno va a destra, uno va a sinistra e in quel caso ci sarebbero gli esterni e ho il laterale difensivo che andrebbe a chiudere in quel caso in area di rigore si inserirebbero soltanto i centrocampisti o il trequartista che dovrebbe essere Ramsey io mi è capitato di vedere molto la partita Juventus-Cagliari e ho visto che la Juventus con le due punte non riempiva l'area di rigore perché Ronaldo e Di Bala non sono due vere e proprie punte da area di rigore come lo può essere Higuain quindi sono molto spesso assenti in area di rigore li troviamo molto spesso a limite dall'area o sull'esterno o da fuori area quindi questo può essere una cosa positiva perché tu in questo modo li chiudi al centro li chiudi al centro anche eventualmente si spostasse Di Bala per crossare per Ronaldo al centro lì Ronaldo è ingabbiato da tre difensori centrali ovviamente sempre permettendo tutti gli arrivi in area di rigore eccetera eccetera che non bisogna escludere assolutamente però anche sulla fascia sarebbero comunque ben coperti perché lì c'è l'esterno che è Kolarov o Florenzi e il raddoppio del laterale difensivo che dovrebbe essere Osetin o Mancini poi vedremo se sarà Fazio ma penso che Osetin sia in vantaggio quindi questo per quanto riguarda la fase difensiva secondo me può essere un atteggiamento giusto perché dovesse giocare con l'attacco a tre lì sarebbe un po' sprecato secondo me utilizzare la difesa a tre perché lì in area di rigore numericamente dovreste averne uno mentre con due punte è giusto secondo me attaccarle contro i difensori centrali per quanto riguarda l'attacco io ci stavo pensando può essere una nota positiva il fatto di giocare con Pellegrini e Zagnolo dietro Dzeko io ci ho pensato e la risposta è sì perché cosa ho visto dallo stadio in Roma-Torino ho visto una cosa che Dzeko era solo Dzeko era solo e tutti i cross di Kolarov e Florenzi rispettivamente andavano sulla testa dei difensori del Torino anche in quel caso Dzeko era solo e i difensori del Torino erano tre secondo me lì Fonseca doveva capire prima che la scelta giusta doveva essere riempire l'area di rigore di uomini cosa che non è avvenuto perché Dzeko era solo e addirittura anche quando è entrato Kalinic Dzeko e Kalinic erano soli contro tre difensori centrali quindi secondo me anche quella partita gli ha dato una mano a capire come poter arginare la Juventus in fase offensiva e secondo me avendo Zagnolo e Pellegrini come trequartisti centralmente hai più possibilità di riempire l'area di rigore sui cross degli esterni Kolarov e Florenzi che sono un po' più avanzati ovviamente non devono esimere dal tornare in fase difensiva anche perché secondo me quello dei due che avrà un po' più di libertà sarà Zagnolo perché Zagnolo gioca sulla destra dove sulla sinistra della Juventus gioca Alexandro che è il terzino dei due che spinge di più quindi Zagnolo potrebbe tranquillamente svariare tra esterno e trequarti in modo da poter creare un po' di problemi e magari limitare le salite di Alexandro perché poi lì si ritroverebbe un vuoto che Zagnolo sappiamo benissimo in prateria può essere devastante quindi questo è quello che ho pensato io stamattina quindi la risposta è secondo te può essere un'opzione il 3421 o 343 io vi rispondo sì anche perché le due sconfitte nette che ha subito la Juventus che sono contro la Lazio la Lazio gioca con quel modulo lì col 3421 il 3412 con Immobile dietro Luis Alberto e Correa o Immobile e Correa dietro e dietro Luis Alberto scusate quindi secondo me Fonseca sta studiando molto questa tipologia di partite l'ha capito sia dalla partita col Torino sia dalle partite tra Lazio e Juve questo volevo dirvi ragazzi ci vediamo domani con il post partita magari vediamo se oggi mi vedo la Lazio e vi faccio un post partita sulla Lazio e la Lazio Napoli ora vediamo intanto lasciate un mi piace seguitemi su tutti tutti i social fatemi sapere cosa ne pensate di questa mia analisi tattica ci vediamo domani o oggi o per sempre ciao aglio